Dipende, buonanotte dipende bacini Sì, buonanotte dipende Sentiamo, ci sentiamo No, ci sono io, per cui non manda bacino Al massimo schiaffi Amai bacino era quacca che doveva mandarle A regola, un tempo glieli mandava Adesso non glieli manda più Dai, Bolter, potevi farti uccidere Col coltello, almeno una Non muore veramente All'ensione di sniping da sub qua Mamma mia, mamma mia Però bisogna dire effettivamente, andiamo a Cesare Col chiedi Cesare che sub ci sta facendo Ci sta asfaltando Ce l'ha veramente asfaltato Ai, a me hai ripreso il sub Eh, vabbè Ero crashato? Come sono crashato? Dipende, non si vede più la live Ragazzi, potete fare il check come due Ah no, aspetta, è vero, si è crashato anche a me Ma cosa non vedi? Non si vede proprio la live? Aspetta Ma io andrò sempre di nuovo Io la vedo in realtà No, anch'io la vedevo però c'era lui che era immobile Era crashata? Eh, perché io non la posso vedere Perché se chiudo qua non funziona di niente Ci mettiamo in just chat No, è arrivato, deve arrivare con l'altro È arrivato? Non lo so, a che punto sei Greg? Che partita non lo rifarò mai Devastante Sub Funziona tutto, si vede sia il gioco che qualsiasi cosa Shoutout a Subiris Sì, GG Sub Anche se non è uno streamer Ma Tanto per Ma è andato via Il raidatore Buelm Sei te che io non ho mai avuto modo di fare Ah, due in prova si chiamava Ho capito ora Ah, mio fratello chiude Va bene Buonanotte, Bolter E se se ne va a lui E si rifà un'altra uguale Un one man army Eh, sì Greg è che punto è Dipende Greg Se Greg ce la fa Bene Se no andiamo in just chatting Però deve farcela tipo subito adesso Buonanotte Bolter Buonanotte, dipende Buonanotte, buonanotte Ci facciamo un one man army a 15 solo con la pistola? Ci sto Ci sto La pistola gli piace Allora, ora cambio pistola Ci sta che chatti E allora facciamo l'ultima, ragazzi Pistol solli Anzi, a 45 E la finiamo, dai Ultima partita della serata Chatti Ultima partita della serata Non sono proprio più portato, mamma mia Comunque Ma anche io zero Ancora un per cento Ragazzi, giochi di strategia Giochi da tavolo Sì, ma sta arrivando bene Vieni Ma giochiamo a cosa? Giochiamo a Bannerlord Cos'è Bannerlord? C'è mai giocato a Bannerlord? Non so cosa si è No Non conosco Madonna, bellissimo Si chiama esattamente Mount & Blade Bannerlord Un gioco di strategia Un gioco di strategia in cui sei In parte è tipo Un RTS Per cui ha turni In parte È un real time In parte È un miscuglio di vari generi di strategie Molto, molto figo Non lo conosco Manco io, manco Dove sei finito? No, sei proprio uscito Ah, perdon Aspettami Ma volete fare fra di noi? Buonasera Sì, sì, sì Sono più divertenti fra di noi Buonasera Simo, come stai? Simone Simone Complicato come nome Eh sì Vuole metterli alla prova Quack Ma dirò all'incontrario Dirò LIAF LIAF AMAGA 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 LIAF E NO E NO MISS Ci siete? Siamo tutti? Eh sì, sì, ci siamo Manchi te Quack Ancora live Sono sconvolta Ert Ma qui stiamo Stiamo rianimando i ricordi Buonasera Ert Comunque Buonasera Ert Abbiamo la bandiera straniera Perché non ci siamo accorti Che si Che andava impostata Quando abbiamo creato il personaggio Si è capito come fare Chi è che l'ha detto Della bandiera straniera? Simone Simone Eh sì Perché siamo molto furbi Tra tutti La mia arma preferita Oh ma non si apre la porta Oh la madonna Il Pride of the Correvolver Ma quanto A quanto ti ho lasciato? Non ce l'avevi con me Stavi sparando a 4 Quindi devi chiedere a lui Eh non l'ho visto Non l'ho visto Non l'ho visto Che c'avevo subito lui là E l'ho pushato Che mappa Che ricordi Simo Peccato che non ci sei Ci siamo divertiti un sacco Ma che cazzo di lag No mi hai inciulato l'arma Qua qua No questo è mio Ah c'hai anche te C'avevi La mia arma L'evolver Si preferita Double kill Si vola Multikill Oh ragazzi Sono l'unico che ha fatto Almeno due multikill Anzi che ne ha fatto Almeno uno No ha fatto La triple Ma non ha fatto multi Ah mo la multikill Ho già fatto la triple Hai ragione Eh non potevo farla La multikill Era un multikill Hai ragione Stavo cercando Di cambiare arma Premendo uno Ma mi ero dimenticato Che non c'è Ha diritto Ah ma ti sei preso Due armi te Ti sei messo due slot Con due pistole Dobbligo Ah viscidone Che viscidone Ma Yoko Ma ha fatto il giro Incredibile Dai questa la voglio Non è ma Yoko T'ho ammazzato io Ah mi sta fai Respiro io non lo sento Respiro che dico Sub e le pistole Non gli piacciono più di tanto Prova a correre Quando corri Si ma ci sta Ti fa capire che stai correndo Ma è orrippilante Cioè il naso di Il rumore del naso di uno Il rumore del naso di uno Bella comunque qua Che devo dire eh Mi rincuro alle spalle Sono rimasto con uno di vita Tra l'altro E ne approfitta Mi sorprende ovviamente Quanto è bella l'anaconda Però mi sorprende Bellissimo Mi sono preso Tutta la tranquillità Di questo mondo Per ucciderti In questo caso Mi sorprende Sempre sul pezzo Ma guarda è fortissimo In realtà il più forte di tutti È Sabairis Sabairis è veramente forte Sì Sabairis è fortissimo Cioè zitto zitto ma È forte Cioè già Zitto zitto perché Non c'ha il micro E vabbè Zitto zitto perché Non c'ha il micro No vabbè A parte quello Allora col cecchino C'ha arati Distrutti tutti Palese Supremazia da parte Di Sabairis Tu secondo però Sei arrivato secondo Oh sta pistolina Fa cagare al cazzo Sì sono arrivato secondo Ma anche io Non ho capito Con qualcosa Però adesso È più bravo Ti devo dire Ci sono stati Degli scorsi Che è Ah ti avevo ripreso No No mi ha preso Una volta sola Infatti un altro colpo Mi shottano E mi spiango Vedevo di averti preso Anche la seconda volta È che mi lagga un po Incredibile che mi laghi Però succede Dai Chi mi ha sparato Da dietro Quacca Mi venivi dietro In quella maniera Lì Vergognoso Aia Sabairis Bella 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 Mi dà fastidio Dover switchare Col tasto 2 Sì è fastidiosissimo Sta cosa Preferirei Preferirei poter switchare Sempre comunque Con l'uno Eh dai Però Dov'è Io caglio Chi è Io canterino Come diceva la minonna Dio per bene Sono nel mezzo Sono nel mezzo vero Ero nel mezzo Vero Ero nel mezzo Stavo facendo Io sono riuscito A non colpirlo Neanche una volta Ma non colpirlo Proprio Aia brutta col coltello Hai giocato male Però Hai giocato male Vantaggio Sto sbagliando Sto sbagliando Con il primo colpo Però Che nemmeno Mi è andata bene Sì Stavo Stavo cercando Di uccidere Che accoltre bene Come ti sei messo Di gusto No Ci abbiamo visto arrivare Bravo Bella Vai Aiuto Bella 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 Però Mi è piaciuto Questo scambio Sto trovando Scambio Anche a me Era in vantaggio Io lì Comunque E vabbè Riferimo Io stavo cercando Di entrare Tu dovevi aprire la porta Sub sta diventando fortissimo Anche con la pistola Chi è? Al 13 Qua Mi ha recuperato Bene Siamo Bastidio Quando per sbaglio No Dovevo ricaricare Mister Non so cosa è successo Ma sono stato spinto Via Ma come sei morto Ma come sei stato spinto Via No L'ascensione mi ha spinto Verso Praticamente Che paura Dove sei Mamma mia Ma non ti vedevo Eri invisibile Una velocità Pazzesca Stavo cercando Di accoltellarti Come un disperato Ecco Ora c'ho il battito Del cuore Nelle orecchie Perché non c'ho Niente Porca miseria Ti ho missato Di pochissimo Lo so Cavolo Cavolo Round Start Non aspettavo Che venivi In realtà respiro così Bellissimo Dai Che culo qua Che si Che culo Ha evitato tre colpi Non sa come Ne hai doggiati tutti Quella è l'esperienza Call of Duty Io giocavo pistola e coltella Call of Duty Davvero Bella però Ma il coltello è fatale Mi odiavano Io andavo in una specie di C'ho avuto un periodo Che c'evo Il Dai però non salta Che merda C'era un periodo In cui C'evo il computer rotto E andavo a giocare In un internet point Ma come? Per noi Ma era un internet point serio Non di quelli indiani Probava internet alla biblioteca Esatto E passavo le giornate In pratica A arare gente Pistola e coltella Che cosa strana A godere della loro Costante Rabbia Io Con quanto t'ho lasciato Di HP sub Poco Perché poi è arrivato Baiocco E t'ho spiucolato Tipo da sbrindellato Comunque giocarci In un internet point Fa strappare Ma dove cazzo C'è Ma sab è su discord Non ho capito Se sab è su discord Mutato O se ci sta sentendo Dalla live Secondo me Ok Ma tu Hai un canale discord Hai visto? Io si E non mi hai ancora invitato? No non ti ho ancora invitato Aspettavo che tu Me lo chiedessi Siamo manco Tu c'è res Che rispettoso Dai Dai Ci vede là Anche il lezzo Ma avevi finito i colpi Tu? Io si avevo finito i colpi Cazzo Rola Eh questa Questa l'ho fatta bene Dando un dolce interessante Dai mi hai superato Anche cavolo Oh ma perché prendo solo danno io Sarai invulnerabile per 3 secondi dopo la comparsa Ma vai a cagare Cosoli Sempre con sto coltellino Arriva silenzioso Silenzioso Cioè ma si sente il respiro E non i passi della gente Oh guarda là Che pistolina si è preso La Glock 23 Tutta colorata Che paura Sì vabbè ha fatto 3 headshot di fila Dai Eh ragazzi devo anche riprendermi un attimo Non posso rimanere a 4 12 Mi hai shottato Mi hai shottato Davvero? Ma guarda questo Ma guarda questo Un solo headshot sto facendo Cazzorini C'hai botta Chi è entrato su discord? C'era qualcuno su discord? Sì Ma bella Bella pride Come te ne sei accorto? Ho sentito il rumore di qualcuno che è entrato Ah non lo so Lo so troppo Bella Che kill pride Eh è stata una malattia E' stato lasciato No ma stavi combattendo con quack In realtà Sono arrivato di lato E t'ho preso in testa da lontano Greg ce l'hai fatta A scaricarlo? Pensavo a te 40 ragazzi Credo fosse manco le 11 Io te l'ho detto Che giocando a questo gioco È passato il tempo E manco ce ne siamo resi ontem Ma io infatti Mi sa che il collegio Ce lo riserviamo per una altra sera Sì mi sa anche a me Ah la metti così Sub Eh sub La volevi? Tutto tua Ma guarda vai occo che non muore Con il coltello della kick Niente Greg non ci va a fare Bella sub Eh ma se mi compare a questa distanza qua Vabbè non sto più facendo fila Sto cercando di fare la clutch E recuperare Oh ma sei Oh cavolo però Io ero primo Da ultimo a secondo Dai Eh perché sto imparando a usare Sta pistolina maledetta Eh shoti tu No ma perché mi sta laggando adesso però Dai non riesco più a colpire nessuno Eh sub ma mi ha terminato 73 di danno sul petto Oh una fila Vabbè Oh ma pazzo di un baiocco Bella Praido A quanto Eh ma mi ha lasciato 15 Ehi Uno sputo mi ha lasciato Ti ho preso tipo tre volte molto vicino alla testa Ah Dai non posso arrivare ultimo anche stavolta Non è possibile Pazzo Nooo Sub No Grazie sub No Non so dove è quel pazzo È lì No Boia Come mi hai seccato Mi hai lasciato lì Praticamente Vabbè Mi hai fatto 485 di danno Giusto per Ah si può vedere Quanto danno ti fanno È in basso a destra Ti dice quanto danno ti fanno Ah è vero 48 48 sul secondo colpo però Sì Il colpo morta Diciamo che il colpo fatale Ti dice quanto Ma quanti siete là dentro Scusami E ho visto cosa stava succedendo lì dentro Proprio perché Ecco ora chi c'ho qui accanto Bravo Bravo Sub Bravo Proprio di ti volevo Accanto a me Ti avevo visto arrivare Ma ho detto Eh no Stavolta faccio il laido No Scherzo Ti ho anche colpito Sì da lontanissimo Non si sa come Da lontanissimo Sì ma questo coltello Non funziona No sei te che non sei in grado Di usarlo Il cecchino Mi sembra che l'utilizzassi Molto bene Funziona perché Colpisce la lontanissima No il coltello Non funziona Mentre stai correndo Che secondo me È una puttanata Inverosimile Sì che funziona Buonasera Nitrus Tu lo sei scaricato Per giocare con noi Ragazzi ma a che orario Hai ritardo Bella questa Ho avuto fatto di danno Un sacco No stavo 416 Ma stavo a 15 Di vita Beh Giusto per Metterci il toppino sopra Vabbè che culo E tra l'altro Mi hai shottato Cioè Dai culo Non era culo Ti sono spawnato Dai no culo Che mi sei spawnato Davanti C'è culo Si mi sei spawnato Davanti Buono Vuole per ricaricare È una cosa personale Vuole fare Per forza col coltello Ho detto Sì Sì Mi sarebbe Che gioco è Combatanzi Facendo una fatica A fare 3 kill Adesso Bella Qua Ti ringrazio Si è messa a camper Era veramente Una bella kill Ma chi Ti è messo lì sopra Stata dall'acqua Ero appena andato Perché mi stava rincorrendo Lui Ecco di nuovo Vai Beh Avevo 5 di vita Ho detto Pia buona Ciao Eh vabbè Yes Sono riuscito a ucciderlo Eravato in due Sì ma io ero a coltello Eh lo so No volevo Beh volevo ripare Suba Yoko Ma Eh ma Ma Yoko zitto zitto È al 32 Se non lo sto attento Mi superi Ti ha preso Praticamente È arrivato il momento Di non scherzare più Ma come In me se lo spino ha spawnato Dovrei avere 3 secondi Di invulnerabilità Cazzo Sub Non possibile Non so cosa dire Ti imparla con i programmatori Non è possibile Ma coltello No Prado mi hai fatto cagare addosso Eh ma è È stato uno dei Dei peggiori spawn Comunque secondo me Ti dà 3 secondi Se Non spari Se stai fermo Sì Nel momento in cui spari Non sei più invulnerabile Ah Ragazzi Chi mi ha sparato Classico Classico Nitros Classico No Il reload È del classico Guarda come si Raviva questo gioco I programmatori ci devono I programmatori ci ritrovano 50 player nuovi Nooo Ah Eh bravo Bravo Bayoko Te l'hai giocata molto bene Mi hai fatto anche Mi hai preso anche in testa Ha fatto 208 danni Ah bella sub Che stava provando a ararmi Da due minuti Nooo Guarda come mi ha timbrato Il proiettile nella fronte Non sapevo Non sapevo che spawnava lì Non sapevo Mi ha fatto spawn Se due ore che inseguivo lui dietro il coso Mi ha ucciso così Dai Che tristezza Eh ma ha fatto spammare lì Cosa ci posso fare Eh Vabbè è diventato fortissimo Bayoko Te ho detto che a pistola e coltello Sono bravo io Ma perché fa pochi danni Ma spamma Quell'arma là Eh Basta che prenda in testa bene Con un colpo E Ti cosa Non è una Puntare sulla potenza Non è forse la scelta più Però la conda è bellissima Ho 38-39 Eh Praido Attento Spawnato dietro Guarda loro D'altro mi ha quasi ripreso anche sub Ero primo No Ma perché non Raido Potevi ucciderlo Potevi distarmelo Ci ho provato ma non faccio più danni stranamente Faccio pochi Mamma mia Bayoko Sento l'ansia Sento l'ansia Tu hai solo l'anaconda Visto? Sì Ah Maledetto Quacchio Cavolo Non riuscivo a ricaricare Ai 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 Mi sa di no Nitrous Anche perché credo sia l'ultima questa Che kill Finalmente Ti ringrazio Bella kill Bella competitiva Eh Ma è grande Si sta sudando Io Sto sudando un po' Bastardi Diciamo che L'impegno è notevole Da parte mia Bayoko Ehm Ecco No 41 Cavolo Questa ce la giochiamo Per photo finish Io prima con cui me la son giocata L'ho vinto 42 Maledetto Aia 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 Pride Che giocata che hai fatto Eh ho rischiato tantissimo però Cioè guarda mi ha lasciato a set di vita Ecco Fu guac che se la camperava Agnurantissimo No no Quando muoio che so che siete lì Me la campero per forza Vediamo qua Cerchi il fight No Ehm Che è successo Bravo Braido Ancora Ancora una volta contro di te Bayoko Lo finiamo sempre io e te Mamma mia Terzo però Sono contento E sono salito anche di livello Guarda Portate rispetto Al comandante Braido Dai però 42-32 Contendo che ero partite tipo 8-16 E poi mi avete fatto venire La rabbia Del vecchio Non è male Devonitrust Ringrazio Ho sboccato Lo zaino permanente Hai sboccato Un zaino Un zaino A parte ce l'avevo già Un zaino permanente Ho sboccato anch'io Un zaino permanente Però è brutto È bruttissimo E non ce l'ho Ho aperto il gioco Ho sboccato uno zaino permanente Ah anch'io c'ho uno zaino permanente Sì Vabbè io direi di chiudere però Per stasera C'è uno c'ha tre socket Ce ne puoi mettere addirittura tre Di oggetti Però è brutto Ce l'hai permanente Orribile ma Sticato Quinto il gioco No anch'io chiudiamo adesso Tardi vai Ci mettiamo un pochino In just chatting E si saluta Sì Presumibilmente No uno slot contro tre Mi dispiace Ma mi tengo questo brutto Perché è funzionale Allora Allora Tanto chiudiamo Chiudo il gioco Yes Tanto Tanto andiamo in just chatting Se attivate le webcam Si va Va bene Sì padron qua Che dammi un secondo Non siamo pronti Chi è che era entrato? Greg Ah era Greg che era entrato Ah cazzo Greg ci spiace Ma Prenditela con il tuo Provider di internet Gua anch'io Sub Anch'io avrei fatto La stessa cosa Cosa? Veramente Se le cose avessero fatto Se le armi sparassero Dove mi eri Quello è vero Nel senso che Il cecchino soprattutto Sparava un po' A cazzo di cane Vabbè se questa cosa Però ragazzi La portate a tutti quanti Dato che spara Al 30% male Ma per tutte Quindi alla fine Sì però se uno Ci gioca a 18 anni Di fila Esatto Beh si Conosci lo spray Dell'arma Per cui sei più o meno Di quanto ti devi spostare Bevo Va bene L'avevamo notato Che bevi Bevo Bevo No dai ragazzi Quella webcam Quelle webcam Finisce come l'altra volta Ma va bene così A noi piace questo Che senso Finisce come l'altra volta Come è finita l'altra volta Che l'altra volta È stato il delirio Veramente Greg ma se ci sei O non ci sei Se ci sei stai Se non ci sei vai Tocca la rima Brutto 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 Vabbè minchia C'ho l'era di dio Qua dietro ragazzi Eh vabbè Vabbè Comunque è stato Ci sono ma senza gioco No ma siamo usciti dal gioco Comunque è stato veramente Il delirio Ci sono ma senza gioco Non è male Ma chi è il quarto È Greg Quello che doveva entrare Ma non è entrato Sì è entrato Ma è È levato la web Che ha levato il microfono Bazzito Cioè ci hai fatto emozionare Che ti stavamo per conoscere E poi In Splinter Cell Poi facciamo pure quello Sì sì Io Splinter Cell L'ho già Perché è gratuito su coso Su E' già provato E non so se te l'hai già Diciamo acquistata L'ho installato Ma non ho idea Di come si giochi Non l'ho mai provato Ma io ancora non l'ho scaricato Nell'instagram Ah ce l'ho anch'io Cioè scaricato da Uplay Ma se vuoi giocare multiplayer A quanto pare si Ha detto Sabiris Sì Dai Splinter Cell Multiplayer Ci pensa il nostro informatico A fare questa cosa Sabiris come si fa Poi ce lo dici Ce lo spiega poi Deve spiegare per forza Comunque Basta fare un Lan to spy Versus Ah ok Ah ok Però come fai il Lan La fai tipo su Amaci Eh vedrei si Cioè usi una roba tipo Amaci Per simulare un server Normalmente Amaci Una rete Locale Sì eh Se no Log main Amaci Non lo sento nominata Vi creo un gruppo su Telegram Perché bisogna sistemare Delle cose senti via Ok Quando saranno Mendo Addirittura Ok Ci siamo benedetti Dal Del ben movimento di Sab Sabiris ragazzi E' L'anello mancante Che serve A ogni streamer E' quello che ti collega E ti sistema tutte le cose Capito Sarebbe il tecnico Da casa L'anello mancante Fra dinosauri Comunque E Amfibi E c'è Sabiris Dentro l'Ambra Con una tastiera Eh sì Perché non c'è la toscia Di mercenari Che non funziona Nella versione Perché è importante Ma Biocco Ti segui Sì mi segui Dalla settimana scorsa Però io ancora Non Già da due settimane fa Ancora streamatoriamente Però mi sa che Mi sa che hai taggato male Eh perché non è in chat Quindi non so come Taggare No Secondo me devi togliere Proprio la chiocciola Sì Biocco ma è scritto normale Biocco sempre come il solito Con 4 Biocco è scritto così Però senza Senza letto Te lo prende Ma io Mr.Pryor ti ho fatto Con la chiocciola Ti prende o non ti prende? Sì sì Adesso sì l'ha preso Adesso l'ha preso No la chiocciola non c'è Ah te la tolgo Te la rifaccio Comunque come è stato Questo ritorno Parlo ovviamente Per te Quack Come è stato questo ritorno? È stata una cosa Veramente incredibile Mi feels Come se piovesse Mi sono divertito però Perché se ci pensi Sono già 5 all'una Cioè Incredibile Quindi è volata È passata molto velocemente È volata È un gioco Che ti porta via il tempo Non tenerebbe nemmeno conto Sta succedendo A UPS Spostando Cosa stai facendo? Cioè can di sistemare la telecam Centrarla O io per non sapere Ne spara Ne accolterlare Ho vinto un gioco dell'armi E una partita A uno dei snipers No ma infatti Sei stato veramente bravo Hai dato la dimostrazione Di essere Un nobile giocatore È stato devastante Devastante Bah sì infatti Hai giocato molto bene Sei di nuovo Sei nuovamente nel mezzo No sì perché lui entra e esce Non capisco che fa Entri o esci O stai Stai o te ne vai Il da pigiama più fighi del mondo Quelli Imbattibili Quello è freddo Non hai sicuramente No se è impossibile È freddo sotto questo Ragazzi D'ogni modo ragazzi Buonanotte Sab Buonanotte Sab Buonanotte Vi racconto cosa ho fatto Questi due giorni Grazie per aver giocato con noi Stasera Grazie mille Sab Un bacione Vi racconto cosa ho fatto Questi due giorni Fatto Sono andato a Roma A fare Partecipare a un festival Di cortometraggi Che si chiama 48 ore film project Project In pratica tu hai 48 ore Per Scrivere Girare Ah figo Montare E Inviare il cortometraggio Ma è una roba devastante Ragazzi Perché loro ti danno Alle 6 di pomeriggio Tipo ti danno il tema Che può essere Horror Mystery Romanzo Comedy Può essere qualsiasi cosa A noi è capitato il romanzo Alle 7 ti danno Altre indicazioni Che devi assolutamente rispettare Tipo hai Da 4 a 7 minuti di corto Non meno Non di più Avevamo Dovevamo inserire Un personaggio Che fosse Stefano O Stefania Bruni Che colione Grazie per il follow Benvenuto Benvenuto Se ti vuoi presentare De la banda ferretto Ah che colione L'ho capito dopo L'ho capito dopo Ci ho fatto caso L'ha pure orrato Ma poi quanti sono Ma quanti sono Buonasera Buonasera Che colione Buonasera In pratica dovevamo Dovevamo Dimmi dimmi No ma Io tipo questo effetto Del Non l'ho capito Era con Mira Sole Palle Io quando l'ho letto Favamo Mira sole palle Non ho capito Era mira sole palle Ah mira sole palle Eccolo Eccolo Eh si ma da come l'hai letto 10 minuti fa Eh ma perché Anche questo lo leggi Mira sole palle Che colione Eccolo Eccolo Ecco mi Ecco mi Hai un nome bellissimo Ma io vorrei sapere Ma Non riesco a capire È la stessa persona Che ha creato Vai la calma Sì è la solita persona Che ha tipo 10 schede aperte In questo momento Ma perché Ah ok Ferretto Perché La banda ferretto Ho ancora la clip Di quando pride L'ho letto Eh si L'avevate clippato Cioè ho la clip Poi te la faccio Te la invio semmai Perché sei visto Tipo Ah mi lascia le palle Ah ho capito Ma In pratica quindi Hai fatto un esame Di tesi Praticamente Alla fine Aspetta Hai fatto un esame Di tesi C'è una banda di ferretto C'è una banda di me stesso Ok In pratica No ma non era un esame Era un concorso No chiaro Però la formula È molto simile A quando Io quando mi sono laureato Mi hanno fatto Mi hanno dato Tipo 18 ore Per Concludere una composizione E inviargliela Per iniziare lì Gli ho dovuto dare A metà dell'esame Dopo Dopo sei ore Quando mi sono allontanato Dalla sede Per continuare a lavorare Gli ho dovuto dare La bozza Di quello su cui stavo lavorando In modo che loro avessero Pro Cioè che io Non avessi prodotto Roba Ah ok Per cosa so Però la formula È molto simile Ti danno un tema Ti danno Una tempistica È figo Perché alle 7 Ci hanno dato Le indicazioni E dovevamo inserire Un personaggio Maschile o femminile Che si chiamasse Stefano O Stefania Bruni E fosse commercialista Un cerchietto per capelli Doveva comparire In tutto il corto E Cioè Doveva comparire All'interno del corto E in più Dovevamo Cioè doveva comparire Questa frase scritta O detta Esattamente in questo modo Ovvero Sono ufficialmente calvo O calva Roba devastante Come lo inserisci Ma Ma era obbligatorio Che fosse presente Come personaggio Questo Questo Commercialista Oppure potevi far vedere Tipo una Una lastra Con scritto Il suo nome Potevi anche Potevi anche far comparire Un bigliettino Con scritto Stefano Bruni Commercialista Però doveva esistere Il personaggio All'interno della storia Ho visto che avete avuto Alcuni problemi Alcuni problemi Alcuni problemi Prima Allora Siamo arrivati là Alle sette iniziava Praticamente Siamo arrivati alle sette e mezzo E vabbè Però ci hanno avvertito Per telefono Su cos'era il Il cosa Non è capitato Il romance La storia d'amore E In pratica La romance Abbiamo passato Tre ore Fino diciamo Alle undici A scegliere sta storia Verso mezzanotte Abbiamo decisa Siamo andati a dormire La mattina dopo Ci siamo svegliati Presto Abbiamo chiesto A un amico Di ragazzi Che ci hanno ospitato Se ci prestava il pub Perché lavora in un pub E abbiamo dato un orario Erano le 10 Alle 9 e mezzo Non funzionava la scheda audio Ok La scheda audio In cui tu butti il microfono E ti registra l'audio Non funzionava In pratica Non leggeva la scheda SD E non c'era verso Di farlo partire Quindi il delirio Perché Come fai O registri con l'audio In camera Ma è una merda Come fai a importare L'audio Dice all'interno Del computer Se non è una scheda audio Per andare a prendere L'audio Esatto Quindi il delirio Non leggeva l'Sd Non leggeva l'Sd Non si sa perché Cosa Baiocco No niente Stavo Dicendo Aspetta l'Sd Formattale Cerca di Riavvia il coso Più non posso Soffia la polvere Cambia le batterie Del Tascam Che è sta a fare Perché la webcam Si è allargata No cos'è Un adattatore per l'Sd Sì lo so La roba è molto semplice Ma perché si è allargata la webcam Meglio così Che si vede il tutto Che cosa Qual è il problema Con quell'affare là Dicevo Ma stanno adattatori semplici No Ma doveva No ma nella scheda Non ce l'ha C'ha solo l'Sd Legge Quell'affare là Ok Cioè intanto c'è Greg Che sta entrando e uscendo E ogni 3 secondi Devo cambiare la webcam No No cosa Legge solo l'Sd Questo qua Legge sia l'Sd Che il MicroSD Ma non è il computer Che non lo leggeva È la La scheda audio Ah la scheda audio Avete messo Ah avete messo Un SD all'interno Deva scheda audio Esatto ma non le leggeva più Questo subito di mattinata Non leggeva più queste schede Ok Non leggendole Riavvia le cose Formatta le schede Non c'era verso Di farlo partire Di punto in bianco Non si sa perché Una l'ha letta E ce la siamo fatti bastare Per tre giorni L'ha letta Se che siamo andati di volata A girare E avevamo detto Al tizio un'ora Un'ora soltanto Per prepararsi Ci abbiamo fatto le due Tipo poveraccio Ma avete soffiato Dentro la scheda audio Come si faceva Nelle cassette De Game Boy L'ho caldamente suggerito L'ho caldamente suggerito Secondo me Non ti hanno dato letta Scenette dell'amore E stenderemo il nostro potere Fino alle stelle Ferretto E la sua banda Banda dei ferretti Pronta a partire Alla velocità Della luce Arrendetevi subito O preparatevi a combattere Ciao Proprio così Che questa è una persona sola Che ha 47 schede aperte E la vera cosa è Lui si è veramente messo A scrivere su ogni scheda E è riuscito a non sbagliare L'ordine Incredibile Quando invia i messaggi Ma aspetta Ma te hai un Razer O sbaglio Sì Quello che vede è un Razer Qual è? Ma no E il pipo sul banco Rieccolo Greg Greg ma cosa stai facendo? Ma cosa stai facendo? Adesso ti banno Fa parte del Ti banno Ma sei un meme? Ma è parte della banda Dei ferretti anche Greg Creepy Creepy ferretto Insomma Se arriva là Si gira La larga Non so se sapete Come si chiamano le scene Primo piano Larga Sì No Allora Il primo piano sai cos'è? Sì La larga è quando ci sono due personaggi E inquadri entrambi Easy Ok Giriamo tutta la larga Due o tre volte Col microfono esterno A un certo punto facciamo Sai cosa? Attacchiamo il microfono Direttamente alla camera Che c'ha Lui c'ha messo C'ha un aggeggio Che si aggiunge E Ti fa attaccare il microfono E è fatta apposta Affinché tu attacchi Il microfono esterno E lui registri Direttamente da questo Ok? Ok Cosa è successo? Registriamo Senza problemi Serve perché Serve perché è più comodo Perché non devi poi Mettere a sync l'audio È già a sync Con la registrazione Ok Te lo registro a sync direttamente Esatto Il pomeriggio Andiamo lì Quest'audio Non esisteva più Ok? Sì sì Ti sto seguendo Quindi arriviamo Che prendo dalle tue labbra Arriva quell'altro Mette tutti gli sfondi In pratica Lo voglio fare anch'io Io non lo posso fare No io c'ho Io lo devo fare ragazzi Come fai? Lo voglio fare anch'io Così Mi sento dei rumori strani Ma è Greg? Greg cosa stai facendo? Greg sta cliccando compulsivamente Sul suo microfono E le sue cuffie Ogni tot cambia Ogni tot non smette di sentire Adesso potremmo sentirlo forse Greg ce la fai? Greg Ma sei venuto a disturbare Greg? Io non lo so E ti telefono casa Che sta succedendo? E ti telefono Greg Oh che bellezza Ah proprio così brutale L'hai espulso No ci sto provando Ma rientra Tutte le volte rientra Come si fa? E' espulso E basta Addio Risposta alle ore e mezzo Ma allora cos'è? Cos'è questo Sfriccherio che sento sotto? Sento uno sfriccherio Oppure io Anch'io Sarà il signor Baiocco? Parli Baiocco? Da nulla Sto parlando No è andato via Sì sì sento Posto Non mi attiva il microfono Infame Infame Due ore Greg Ma prova a vedere se Nelle impostazioni Hai sbagliato Cosa Piro? Cosa? Io infame? Sei arrivato a rompere il cazzo Scusami Piro infame Per te solo le lame No? Non fa così Non ho parole Non ho parole Anch'io L'ho persa Insomma comunque Non mi fanno finire il racconto Dai Non mi fanno finire il racconto Eh racconta Racconto? Mi interessa? Siamo interessanti Siamo interessanti Non racconto In tre secondi Cambiamo argomento Non è interessante Allora Come sei per maloso No per maloso Ragazzi La verità dei fatti Che siete voi La verità dei fatti Ovvio Io non sono fatto Tra l'altro preferite Questa inquadratura Che ho messo adesso? Sì Preferiamo Meno male Dicevo Arriviamo a casa Il pomeriggio E diciamo Facciamo una cosa Cominciamo già a montare Ste scene Che tanto Le altre scene Dobbiamo girarle di notte O di mattina presto Cominciamo a montare Montiamo la larga Mettiamo i primi piani E l'audio non esisteva Cioè Era quello della macchina Era Bruttissimo Non si sa per quale motivo Non ha registrato Dal microfono Quindi eravamo nel panico Perché noi Non avevamo tempo Per rigirare le scene Capito? Era impossibile L'idea era O doppiare O andare la mattina E di volata Rifare le scene La mattina dopo Ma dovendo rifare tutto Comunque Cioè Dobbiamo fare tutto il resto Del corto Oppure la terza soluzione Era cambiare corto Ma era devastante Sceglierne un altro E niente Insomma Avete optato per Un ragazzo fa Ma perché non provi A usare l'audio Di quella normale Quello buono E metterci soltanto I pezzi di video Di primi piani E incredibilmente Ha funzionato Sta cosa Cioè Ah Hanno detto Le battute Hanno detto Le battute Con lo stesso Esatto tempo Capito? Quindi tu potevi Prendere il video Della zoomata E metterlo Con l'audio Della larga Certo E era sync Una cosa incredibile Una cosa incredibile Che culo Che culo incredibile Tu non hai idea Perché il copione Era un po' buttato là Ma pensi infatti Se avessi fatto Improv E robe così Era Guarda C'è una battuta Cioè A un certo punto Arriva il cameriere E dice Ecco qua Nella stretta Nel primo piano Nell'audio dice A voi E non si nota Assolutamente Cioè Perché lui Lui parla Senza muovere la bocca A voi Ecco qua E quindi è perfetto Ecco qua A voi Adesso ce lo fa vedere Tipo È un film cinese O giapponese Degli anni 90 Ma sicuro Ma sicuro Ma sicuro Parla tipo così È un film mutuo Questo ragazzo L'avete visto voi In post produzione Rieccolo 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 L'avete visto voi Shaolin Football Certo È bellissimo Sì È una straridere Io ho visto soltanto Un pezzo Shaolin Soccer Ho visto solo un pezzo Su YouTube Mi sono pisciato addosso Bellissimo È fatto bellissimo poi C'è tutta una serie di film Fatti da Quello sport Che No ma tutti sono il Kung Fu Però in situazioni Totalmente folli E sono bellissimi Ma poi è fatto benissimo Insomma E quello è stato uno dei problemi Cosa? Quello è stato uno dei problemi Uno E gli altri? Esatto Un altro problema è che A luna e mezzo di notte La sera Dovevamo andare A dei bidoni A girare una scena Con i bidoni E ci hanno assicurato Che erano sempre pieni Perché la scena era Il cameriere Che butta la roba Nei bidoni Ma casca fuori Perché c'è troppa roba Ovviamente arriviamo lì E i bidoni Non erano pieni Cioè Potevi benissimo Tirarci il sacco dentro E vabbè E vabbè Tra l'altro fanno E quindi vabbè L'abbiamo girata uguale Che lui fa lo sfavato E li tira in terra Direttamente E tra l'altro Ma che cosa senza senso E vabbè A Roma Tutto così Sì Praticamente Praticamente è roba del genere Diventa stronzo Il cameriere Praticamente sì E poi Ovviamente Ci fanno A luna e mezzo di notte In questo quartiere Non c'è mai nessuno No Noi arriviamo lì Ai bidoni Che sono 200 metri Sotto casa Attiviamo Ma come avviare cuffie Greg Come faccio a parlare Se tolgo le cuffie Certo che siete proprio Cioè Capite proprio un cazzo Devo dire Vabbè Hai scelto una via diversa Per dire la solita cosa Capite un cazzo Forse è la mia vita Che siete stronzo Infale Guardalo Ma poi entri Non entri Ma che fai Il senso è la me Oh Non fa me Mi hai tolto la chat Ti rinvito Ma tu entri Non fai niente Cosa devo fare io Come ti faccio a invitare Non si capisce niente Rientra Non puoi Sembrava di parlare Con un cosa Con G3PO Dello sfrigo lì Non so come invitarti Greg Mi dispiace Mi dispiace Non è colpa mia Se non si sente il microfono Ma tu l'hai selezionato Dalle impostazioni Scusaci È colpa nostra Non è colpa tua Non è colpa nostra Di chi ha la colpa Scusami Non è colpa mia Se non si sente il microfono È Epico Ti ho chiesto L'hai selezionato il microfono Domanda ancora prima Ma l'hai attaccato il microfono No l'hai attaccato il microfono Ma domanda ancora più importante Ma ce l'hai il microfono Ma il computer è acceso Perché anche lì Esatto Da dove stai cercando di entrare Io Adesso si offende Vedo adesso che siamo in live da 46 minuti Qual è possibile Scusami Perché ti ha crashato E sei riattaccato da solo Incredibile Sono con le cuffie Sì ma le cuffie Le cuffie non ce l'hanno il microfono Ma le cuffie non hanno il microfono Infatti Sì voglio di avere un modello di cuffie Con il microfono E poi inserirlo come input Sì una brutta persona Comunque E' tornato anche di Itrus Buonasera Le mie si Sono speciali Io non so cosa dirti Greg Cosa devo fare io Scusami Ad ogni modo continuo Scusa Come minimo Gli devi comprare un microfono nuovo A chi? Perché Cioè A Greg Ma no È colpa tua Che gliel'hai rotto Colpa mia Sono di là Greg Se doni 30 euro A Quack Ti compra il microfono Ti tolgo la buona mente Ti stiamo rovinando i sub Quack cambia lo sfondo Non posso cambiare lo sfondo Ma Ah è vero Te non Maledetta pubblicità Eh Questa pubblicità Pubblicità Avevi Quack Se non vuoi la pubblicità Aspetta Finiamo la pubblicità E facciamo L'ho già donato in passato È vero Donò 3 o 4 euro In passato Greg Il microfono da 3 o 4 euro Non ce lo compri mia Ce ne vuole circa 100 Eh Vabbè E con l'idro Sva e viene Ma cosa sta succedendo Questo non costa 100 Questo mi sa Costa intorno ai 60 Sì Ma è più che discreto Sì Il Razer Non è male Confrontato con gli altri Che c'ho Sostituito a Quello che avevi prima Perché hai cambiato Rispetto a quello col braccio Perché è più comodo È semplicemente più comodo Da tenere Mentre gioco Non c'ho un braccio In mezzo ai coglioni I marroni Ok Sì sì Ma io C'ho il treppiedino Chiaramente Al punto di vista E la qualità audio Il treppiede Sì Nel senso che Quell'altro è meglio Quello col braccio Quattro mesi di abbonamento Qua Quindi devi regalare un microfono Si si sente bene In questo Si sente meglio Paradossalmente Meglio con questo Rispetto a quello Perché questo C'ha C'ha già dei settaggi Di Di equalizzazione Mentre l'altro Un microfono da registrazione Puro Per cui comunque Andrebbe settato L'altra volta Non ce l'avevo sbattuto Non ho capito Devi regalare un microfono Otti mesi di abbonamento A Quack Devi regalare un microfono Non si ricorda di che Sto dove avevo Non sei venuto a casa mia Una volta Non mi ricordo Magari è venuto Sotto a casa tua Era lì che sperava Di incontrarti Per chiederti Un autografo Ma a te Non ti sei mai presentato Io posso Sgranchisciti Questo lo posso fare È il momento di sgranchirsi Questo lo posso fare Su Quack Si sgranchisca Fatta Mi sgranchisco anche ora Allora Comunque finisco Il racconto un attimo Quindi Bidoni devono essere pieni E non deve esserci nessuno Ovviamente bidoni vuoti E ovviamente Dopo tre minuti Che siamo lì Accendiamo la telecamera Sentiamo questo rumore Incidente cento metri più avanti Capannello di persone Come se piovesse Tre stronzi Non ho pensato Fosse rientrato Greg No no Tre stronzi Si mettono a sedere Sulla panchina Accanto a noi Dove stavamo girando Palesemente A rompere il cazzo No E come c'ha fa A che famo A bruscoli Che stiamo a fa Che famo Andiamo a fare un giro No ma che famo un giro Non c'è stancazza A aperto Eh basta Li erano per cazzo a noi Vaffanculo Poi erano palesemente Gente che non gli puoi dire nulla Perché vogliono subito Attaccare Briga Cioè Era palese Quindi dopo un quarto d'ora Sono levati di culo Per fortuna E te E te non sei ovviamente Un uomo alfa E quindi Te ti fai mettere i piedi in testa Dal primo bulletto Che arriva vero qua E questo arriva a fine racconto Perché C'è 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 un risvolto incredibile C'è anche un bulletto Nella storia Un bulletto Uno di quelli grossi Dopo ve lo racconto Una domanda Scusami Ma l'incidente l'avete tipo registrato È diventato parte No Perché No perché Non sta Stavamo Ci stavamo sistemando Però volevamo andare lì Dopo Volevamo andare lì E far finta di essere TG Roma Col Col boom La telecamera Eh sarebbe stato interessante Oppure magari Non lo so Tipo Io mi immagino Una macchina Accartocciata Con una persona Ferita accanto Ti metti tipo Dentro la macchina E fai finta Di essere ferito E questo è quello Che è successo Mentre l'avamo qua Comunque Niente Se ne vanno Giriamo sta scena E Come Merluzzo Pian piano Diventiamo come Merluzzo Come Merluzzo Come Maurizio E se no Come Danny Lazzarino Danny Lazzarino Sì però Arto la metà Di Danny Lazzarino Probabilmente Non so quanto è Non è altissimo Controlla Se non è alto Aspetta No Non è tanto alto È alto come me Pesa solo 100 kg Ma è 1,78 Ah vabbè È tantissimo No credevo fosse più alto Sì Non è tantissimo Pesa solo 100 kg Vabbè Per braccio No no 100 kg in tutto Un centiladio di kg in tutto Oh ok Bisogna vedere se è in fase di bulking O sta cattando E sta tagliando Senti che parola incredibile Adesso chi è questo Danny Lazzarino Danny Lazzarino Danny Lazzarino È un Mematore Bodybuilder È un bodybuilder È un grande imprenditore Nonché Grande diciamo Figura di riferimento Nell'ambito Dei social Soprattutto di youtube Principalmente Ma è enorme Ora Ora negli anni si è fatto spazio Anche grazie ad altri youtuber Paralleli Quali Maurizio Merluzzo Che si occupa appunto di Di doppiaggio Pochi X Murray Ex videogiocatore Comunque si è fatto Bastante Io di youtube Italia Veramente conosco zero Che io non tantissimo Facendo il reed del doppiaggio Vi devo taggare? Che vuol dire il reed del doppiaggio? Ah ci siamo Siamo tutte Tre presenti Nel momento in cui Lui ha fatto Hai fatto il doppiaggio Del coso Ah ma tagga si Tagga si Ferretus Taggi Taghi pure Taghi pure Ma ce l'ha il mio int Tagmam Comunque Il nostro potere Fino alle stelle Siamo Jesse E James Mi segui? Ok perfetto Comunque cos'è successo poi? Andiamo a letto Alle due e mezzo A parte quello quasi morto Il tizio dell'incidente Con chi sei andato a letto te? Scusami non ho capito Andiamo a letto È solo? Sì Con nessuno È un divano letto È appunto Divano letto E poi c'è spazio per due Divano letto No ma era C'era la stecca di ferro durissima Ma comunque anche questo Maurizio Merluzio È un bodybuilder Quest'altro È vivene Come Microsoft Che cazzo si chiama? Internet Explorer Non è proprio un bodybuilder Maurizio Merluzio è uno sportivo Diciamo che si ferma Ma almeno una ventina di chili Ma no Nitrus 20-30 chili meno rispetto a Si figura Nitrus Cioè fisicamente è molto allenato Indubbiamente Però no Bodybuild non gareggia neanche Mentre Danny Lazzarin Ha fatto anche competizioni Quindi insomma sì Diciamo che il livello è totalmente diverso Sì vabbè Andiamo a dormire Ci svegliamo alle 6 Per girare la scena di mattina Un ragazzo vestito da spazzino Con Come si chiama? La salopette Però gli mancavano le bretelle Allora con lo spago Si era legato ai bordi No? Mentre cammina Si rompono le spago Gli cascano i pantaloni C'era la gente Delirio Risate a non finire Bellissimo Delirio Cascate i pantaloni Sarebbero mutande Ma poi c'era un freddo cane Bellissimo Ma c'era la gente Poi uno ha fatto No Quello no Quello no Perché non sono stati svegli Se c'eri tu Veniva giù Veniva giù Tutta Roma Ne hai capito E poi cosa è successo? Cazzo io credevo che fosse questo tipo di humor Sarei venuto a vedere Guarda anch'io Peccato A me È successo qualcos'altro Non mi ricordo cosa Però quello che ti interessa a te È quello che è successo L'ultima mattina Siamo andati a cercare un negozio Di giochi da tavolo Ma sta parlando con te quando dice a te O sta parlando con me Sta parlando con te Sto parlando con te Con te Sto parlando con te Con te E chi? Te Me o lui Te 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 Quelle che non hai visto Le mutande le aveva per fortuna Per fortuna Allora in pratica Guardiamo su Google Maps Per andare a questo negozio di giochi da tavolo Arriviamo 50 metri prima Sbagliamo E ci ritroviamo davanti a una delle vecchie sedi Del fascismo No Come è fatta a sbagliare Scusami Come è fatta a sbagliare Il cazzo ne so Io non stavo guardando Google Maps Quindi non è colpa mia Ci troviamo davanti a una delle vecchie sedi del fascisti Ma di Casa Pound Di Casa Pound No ma quelle vecchie Quelle vecchie proprio MSI Movimento Bello Proprio monumenti Cioè Le foto così capito? Esatto Esatto Arriviamo lì davanti E ci guardiamo intorno E non si capisce che cazzo Cioè Cazzo siamo Arriva uno Cominci a fa Au che state a fa Che volete? Avete qualche problema? Che state a fa E noi facevamo finta di non vederlo E andiamo via E questo ci viene dietro E continua a rilassare Au che problemi ci avete? Che volete? Au Ma era enorme Questo qui era un tizio enorme L'altro è Danny Lazarin Era uguale Entriamo dentro il negozio Di giochi da tavolo E questo si pianta sull'ingresso Aspettarci Panico Sapevamo che cazzo fa Cioè poi non avevamo fatto niente noi Ma poi quanti eravate? In tre E uno E tre Se è tanto grande Non ce la fai No ma il problema qual è? Che non ce n'è uno di noi Che è Adatto al combattimento No vabbè Ma là Se in tre contro uno Prendi oggetti Ma neanche gli oggetti Inizi a lanciarli La tecnica è quella Guarda te lo dico Se uno è gigante Tanto in un negozio di cose Ci sono anche Di giochi di roll Ci sono anche I robi di metallo I dadi giganti in pelle No non c'era Perché lì vendono soltanto Giochi da tavolo Vendono soltanto giochi da tavolo Gli tiravano le tessere del puzzle Magari Le scatole Così ci menava anche Il proprietario del negozio I pezzi del nego Magari ci inciampavano Gli lanciavate il proprietario addosso Così magari si distraeva Per un attimo Ma no ma ragazzi È stata una cosa assurda Che cuno si è piantato lì E noi siamo entrati Dentro il negozio E non sapevamo cosa fare È bellissimo perché La cosa che è successa È stata questa Noi tre siamo andati Nella zona più lontana Dall'ingresso A guardare gli scaffali In silenzio E ognuno Guardava i giochi Li prendeva in mano Li rimetteva dentro E non leggeva assolutamente Niente di quello Che c'era scritto Sulla scatola Cioè Vista completamente oscurata E poi a un certo punto Uno fa Ma è ancora lì? Sì E niente L'idea era stare Fino alle sei di sera Nel negozio Deve essere quella Una delle soluzioni O chiamare la polizia Ma sembrava un po' estremo No perché La paranoia qual era? Che questo Mentre noi eravamo dentro Chiamasse altra gente Capito? Io mi immagino Tutti i vestiti Questa masnata di gente Messa davanti O sì davanti a un negozio Dice Da tavolo Era un paranoia Per tre ragazzetti Poi Sì ma capito Però il fatto che ci abbia seguiti È una cosa che Cioè Magari uno è fuori di testa Sanno sega Tu cosa fa questo? Fino ad una richiusura Andare a casa con il titolare Sì Alla fine abbiamo optato Oppure un'altra idea era Chiamare il terzo Il quarto Cioè il quarto amico nostro E dirgli di venire fuori dal negozio Per farci da paolo E dire se si poteva uscire Però se anche lì Doveva farsi un quarto d'ora a piedi Questo per venire a fare sta cosa Oppure alla fine abbiamo chiesto Al proprietario Giustamente Abbiamo chiesto Ma che dobbiamo fare? E questo ci ha detto No no Ma lui è tranquillo È tranquillo Ce l'ha detto mentre tremava Quindi non è che eravamo molto Rassicurati Ma lui Più tranquillo Cioè lui balbettava Mentre diceva che Quello era un tipo tranquillo Io non so quanto fosse Effettivamente tranquillo poi Ma alla fine quindi Siete riusciti a scappare All fine niente Gli abbiamo chiesto Se era sempre fuori E lui ha detto No non c'era più E noi Beh abbiamo aspettato Un'altra oretta dentro E siamo andati via Però con la paranoia addosso Cioè Se all'andata abbiamo messo Un quarto d'ora a piedi A ritorno ci avevamo messo Cinque minuti No è stata una cosa assurda Comunque Cioè perché raccontarlo così Fa ridere Perché non è successo niente Ok Ma lì per lì Eravamo in paranoia Con questo che ci seguiva Inchia Immagino Cioè Ho avuto una sensazione simile Quando sono stato Io sono stato un mese a Napoli Un po' di anni fa Un po' di anni fa Con mio fratello E in pratica Non so se sai dove sono I quartieri spagnoli No però ce l'ho Sono in centro Napoli Ok Per cui Tu se sbagli via Tu sei a spacca a Napoli Sbagli due svolte Sei in uno dei quartieri peggiori di Napoli Io e mio fratello Abbiamo sbagliato Quelle due vie Nel momento in cui siamo entrati dentro I quartieri spagnoli Abbiamo realizzato Dove eravamo immediatamente Però non potevamo Prendere e girarci Quanti eravate? E andarcene Eh? Quanti eravate? Io e mio fratello Ah ok E basta Per cui Iniziamo a vedere Gente che si affaccia ai balconi E ci guarda Strano Gente che per strada Inizia a urlare cose Di Napoletano Ed era tutto silenzioso Fino a quando non abbiamo iniziato A passare noi Perché secondo me Hanno pensato che fossimo polizio Cioè hanno cominciato a urlarvi? No non a urlare a noi A urlare al Al quartiere Ah Perché a Napoli fanno così Cioè a Napoli Quando pensano che ci siano rettati in corso E roba del genere Urlano C'hanno proprio dei termini Che gli altri Che gli spacciatori Sanno Capiscono fra di loro Sì Si capiscono fra di loro Noi abbiamo iniziato a sentire Ste grida Che non erano rivolte a noi Però era evidente Che stessero gridando Perché noi eravamo presenti In un posto in cui Non dovevamo essere Perché abbiamo cercato Le prime due svolte possibili Per fare retromarcia E tornare a spacca a Napoli E stavamo infartati Per un quarto d'ora di camminata Ma lo credo Che ci guardava dalle finestre Attraverso gli spioncini Tu dici Va bene Bella Fra un po' mi sparano Cioè ma Roba da avere paura Veramente Tu Mr.Paid Non so se hai sentito Come ho concluso il racconto No non ho sentito Anche perché adesso Devo chiudere Sono stato anche Richiamato in casa Quindi è il momento Per me di Eh ma allora chiudiamo tutti Sì Se volete rimanere voi No no vabbè Tanto è già È già crarda l'ora Una e mezza Cavolo è già mezz'ora Che si chiacchia Eh non lo so Io poi ho un volume di voce Che è consistente Quindi Come si suol dire Rompo coglioni Quindi Eh beh sì Va bene Allora chiudiamo ragazzi Ora qua che dovrei andare In palestra Ci vado Non è indifferente Per cui Sei enorme Ora qua Musco Bastante Ora qua che sto entrando io Sì Greg Vai a cagare Greg Ti stavamo aspettando Tutta la sera Cioè Esatto Secondo me non ha neanche Secondo me ha scaricato Tipo Cluedo Non ha scaricato neanche Il gioco Giusto E si stava incazzando Con te quack Che il terzo in stream Oltre a te e Praido È Baiocco Il terzo si chiama Baiocco Su Instagram è Baiocco Col quattro Al posto di là Il gioco è partito A mezzanotte Praticamente È partito No no il gioco è partito Sì sì come no Secondo me non l'ha neanche aperto Ma infatti Ci sta giocando adesso Secondo me Cosa vuol dire tiltato Che ha scritto Girato Quando ti Qualcosa ti butta di fuori Sostanzialmente Ah ok ti manda in tilt Madonna Insomma Va in tilt Termini Termini troppo Neologismi giovani Dimmi tutto Tiltare Non l'avevo mai sentito Ma che ho mai sentito Va in tilt Quando va in tilt Sostanzialmente Hai tiltato Ok 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 Giovedì Stai facendo Quando si faceva Il gioco delle armi Insomma Madonna Comunque è bellissimo Cioè modalità più bella di tutte Secondo me Sì Con 45 Quella e poi vabbè A me il deathmatch piace Se si gioca sempre Pistola e coltello Io sono È stato bello anche quello Che ridere È stato veramente bello Appena ho capito Come funzionava Quella pistolina maledetta Ma quella spammavi Praticamente No quella Non è che spammavi Quella devi mirare Nel punto giusto Però non puoi usarla Come una pistola normale Per cui devi fare 17 click al secondo Via Scusate Ma No ma figurati Buonanotte Adesso andiamo Io grazie Volevo capire un attimo Nitro Scusate Mi chiedeva Vi ringrazio tutte e due Vi mando un bacio Incredibile Vi mando un bacio Ci vediamo La settimana prossima Ci vediamo E ci sentiamo Va bene Fatemi Buonanotte Grazie mille per la compagnia Buonanotte Alla prossima Sono stato invitato In un istituto superiore Dove faranno Assemblea d'istituto E fanno le live su Twitch Ma di cosa parlano Scusa Mentre sei lì Cosa vuoi sapere Di Escape Room Amici dell'assemblea D'istituto Loro Infatti non ho capito Cosa voglia dire Sta cosa Cosa serve La guarderanno 15.000 spettatori Sto diretta Penso nessuno Un po' come le nostre Esatto Io ne ho fatta una Un paio di settimane fa C'evo anche amici Mi dicevano Ah sì bella Vengo a seguirti C'erano due persone Nessuno Che non conoscevo Ah buono però Almeno quello Quello sì Perché ancora in dad Ah ok 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 Un altro discorso Allora Però è un po' Cioè Brutto su Twitch C'è quella gente Che ti entra e commenta Fate compagnia Alla gente Che è in didattica A distanza Cioè qual è il format Del No qual è il format Fai didattica a distanza E entra gente A rompere il cazzo Dal mondo di Twitch Cioè scusami No ma loro stanno Trasmettendo l'assemblea D'istituto Non stanno Assemble Ah giusto Di didattica a distanza Per cui cosa fate Ma cosa serve scusami Ma la gente poi Non ci viene Allora cosa fannolo Cioè a te te l'hanno detto Qual è il format Oppure tu vai lì E ti dicono Guardate c'è lui Che deve fare E lo scoprirà Il niente Cosa devi fare Allora Nitrus Com'è come gioco da tavolo Allora Escape Room Il brutto degli Escape Room È che sono giochi Che giochi una volta sola Ok Quindi io non l'ho mai giocati E a volte sono fatto anche un pochino male Non mi ricordo se proprio quello di Jumanji Aveva un problema E comunque sia Sinceramente te lo sconsiglio Ma per il semplice fatto che li giochi una volta sola Quindi tu spendi 30 euro Per un'esperienza unica Cioè spendine 30 Vatti a fare un Escape Room vera In città Che tocchi le cose E fai le cose È più divertente Secondo me No? Dico bene Baiocco Sì poi a me Gli Escape Room in generale Non è che mi facciano Impazzire No no Però te l'ho detto Poi è un legacy Cioè Sì però boh A me anche Le Escape Room reali Proprio No però è più divertente Magari Sì 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 boh Io preferisco Ma non l'ha mai fatto? Se devo andare a chiudermi in un posto Preferisco fare Softair Al chiuso Ah Softair deve essere frigo Molto Molto divertente Ehm Allora è Frenetico quasi quanto Noi mentre stavamo giocando Mamma mia Che bellino Che ridere E là la gente litiga sul serio Bullismo Bullismo sport e altri aspetti della vita Io vado a fare da relatore E mi bullizzeranno Mentre spiego come si marcia Mamma mia Mamma mia Povero Povero Greg Ah Piro da te io ho fatto quella di Saw Ah Ti sei divertito? Una volta ho fatto un Escape Room Jurassic Park Danger Te lo cerco un attimo Ma non lo conosco Però Tieni presente Nitrus Che l'80% Anzi 90% delle volte Quando i giochi sono ispirati a Serie famose Fanno cagare Te lo dico che rettondo Perché sono fatti soltanto per vendere Col titolo che hanno Sì Sono fatti di Tendenzialmente poi Questi giochi qua Sono fatti dalla Warner Bros Che sarà Ravensburger Mi sembra E vabbè E prendono case di produzione di videogiochi Tipo la Ravensburger Che ha prodotto Due giochi Nella Nella sua storia di produzione di videogiochi Capito? Poi magari Sono bravissimi A fare giochi da tavolo Però Non è trasferibile Come competenza No no ma lui stava parlando Di giochi da tavola Però Ah ok Sì sì Avete vinto Bravissimi Greg Importante Essersi divertiti Guarda Ma fai una cosa Nitrus Dimmi che tipi di giochi ti piacciono Te ne consiglio uno io Si fa prima Perché Io non lo comprirei Sto qua Non lo comprirei La mega esperienza Magari è bello eh No La mega esperienza no Però Ti posso consigliare qualcosa che ho già provato Che ti può piacere Questo Prova a vedere quanto c'è di rating medio Vediamo un attimo È di due anni fa Il gioco tre anni fa 6.3 su 10 Non è tantissimo Non è neanche una merda Perché solitamente la merda Sta sui 4-5 di punteggio Già che superi la sufficienza è buona L'ho salvato nella lista di Amazon Ok ma dimmi che tipo di gioco Vorresti Ti dico se c'è no Perché c'è no altri nuovi Però questo non lo conosco E non trovo neanche recensioni Così da vedere di punto in bianco Sinceramente Le recensioni sul nostro tavolo Un attimo Tu vai Occo ci giochi Giochi da tavolo Me l'avevi detto Sì Preudum l'ho venduto Ah sei riuscito Sì l'ho scambiato con Concordia Che non ho ancora provato Non ci ho mai giocato No No Recensione 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 A me manca tanto giocare di ruolo Sì Madonna Qualcosa di simile a Lupus Vuoi? Qualcosa di simile a Lupus Ti posso consigliare? Citadels Non è Come Lupus Però ci sono i ruoli E' figo Perché interagiscono i giocatori Fra di loro Sottraendosi risorse Facendo cose L'obiettivo è costruire Una città di sette Edifici Il primo che la costruisce Vince Ne puoi costruire al massimo Uno a turno Però puoi dare fastidio Agli altri Per non farli costruire Ed è carino Alcuni edifici che costruisci Hanno dei poteri Che ti aiutano a Costruirne altri O ti fanno guadagnare Più punti Perché non vince Chi costruisce sette edifici Per primo Ma sette edifici Per primo Finisce la partita E si calcolano i punteggi Ovviamente Chi finisce i set edifici Ha dei punteggi maggiori Cioè ha dei bonus Perché è stato il primo A averli finiti E magari è stato anche L'unico ad averlo fatto Però è molto carino Non è neanche Complicato Ora non so tu A quanti livelli A che livello sia Quei giochi da tavolo Però Citadels Te lo consiglio Molto divertente Ha una grafica Molto bella E i materiali Sono molto curati Mi piace Penso sia a livello di materiali Il mio preferito Fra quelli che ho O nella mia top ten Tra i miei tre preferiti Diciamo Top ten Esagerato Dire così Però ha dei materiali Molto belli I materiali intendo La qualità delle carte Dai gettoni Quel che c'è E tu E il cartone Tu l'hai provato Citadels Bayocco L'ho già sentito Ma non l'ho mai provato È questo Aspetta che lo prendo Aspetta Scatola anche Piuttosto compatta Non è gigantesca Se trovi questa versione È la migliore Perché Ha anche le espansioni Anche le espansioni Del vecchio In quanti si gioca Si può giocare Da Da 2 a 8 E gira bene Sia in pochi Che in tanti Al mistero Del abbazia Ci hai mai giocato Il mistero Del abbazia Lo volevo comprare Non ci hai mai giocato È molto bello È tipo un cluedo Fatto bene Giusto È una via di mezzo Fra cluedo E alibi Per cui È una via di mezzo Fra domande Carte È molto divertente Lo cerco Ma è quasi È quasi Introvabile È fighissimo Tra l'altro guarda Nel negozio di giochi Da ciavo L'ho comprato Un altro dei giochi Che avevamo preso Con mio fratello Io ho comprato questo Non so se lo conosci Finstere Flure Che sarebbe Fuggi Fuggi No Non lo conosci? Mai visto Ma Non l'ho mai provato Ma Ce l'avevo sott'occhio Da tanto Vedo l'ora di provarlo Comunque Nitrus Citadels Costa anche poco Costa intorno ai 30 Mi sembra Forse anche meno Un attimo andare a vedere Su Amazon Che non è Non è tanto No Infatti Onesto Con lo scatolone E poi così Cioè contando che costano Tipo 22 O 23 I pacchi Di espansione Di Munchkin 24 euro Perfetto No infatti Infatti Cioè Un buon prezzo Molto onesto Tra l'altro È scontato Di 5 euro Dal primo novembre Costerebbe 30 E sta 24 Te lo consiglio Sì Cosa esce domani Su Epic? Non ho idea Sto guardando adesso Magari ci trovo Ma Venerdì Tu hai Qualche streaming? Venerdì Sì O la live Ah ok Perché? No perché L'avevamo fatta di venerdì L'altra volta Vuoi cambiare il giorno? No vabbè Mi andava stasera C'era Mr. Pride Poi ho detto Fammi sentire anche voi Se vuoi la rifacciamo Beh voglio Magari facciamo Crab Game Non so Vorrei convolgere la chat Ma Non hanno il computer Non vanno È un casino Tre volte Ma con Crab Game È più facile Perché è veramente Mezzo secondo scaricarlo Sì Assolutamente Allora Fa vedere Giochi gratis Dalla settimana prossima C'è The Hunter Call of the Wild Che non so cosa sia Dimmi Prima il gioco Intanto scarica questo Giochiamo insieme Probabilmente venerdì Crab Game Sì Scaricalo Perché si ride a lacrime Sì Anch'io GTA 5 Tu ce l'hai GTA 5 Quack Sul computer no O forse sì Non lo ricordo Guarda se ce l'hai Perché se si gioca in multiplayer A GTA 5 Si ride Tantissimo Si ride? Sì Sì Vai in pratica A fare quello che a te piace Fare sui server di Minecraft Sì Ma è il delirio Cioè Però Però alla gente Se ci vai in gruppo È divertente Vai a trollare male Server di roleplaying E come fai a entrare? Sono stupidi Ci sono Ci sono le password Ti danno Cioè Ci sono pubblici Moltissimi Fammi vedere un po' Se ce l'ho We cheat Non lo conosco We cheat Mi sta facendo vedere Soltanto quelle installate No Costa 5 euro Ah un hide and seek Ho capito Sì ce l'ho il 5 Ho capito Eh allora Magari si può giocare a Dovrei installarlo A GTA 5 Si ride molto Eh watch it È carino però È a pagamento Peekaboo è carino Costa poco Peekaboo costa poco Guardate su steam È tipo Anche quello È un hide and seek Costa 5 euro Tra l'altro Lo davano a 1 euro Tipo Un mese fa Mentre We cheat We cheat costa 20 Purtroppo Magari è fatto meglio Però Io lo vedevo a 5 euro We cheat Io lo vedo a 20 20 euro Alcuni discarico da epic game No anche io Discarico da epic game Sono gratis Che discorso Epic Poi se avete il prime Oltre che evitare Il L'add Ogni ora Ci avete anche i giochi Gratis Se andate a guardare Su gaming Punto prime Punto com Li trovate Tutti i giochi Gratis Le offertine Le cagatine Per i giochi Che facciamo Andiamo a nanna Che l'una è 40 Direi Stanchino Domani vado a San Siro La sveglia alle 6 e mezza E allora vai a nanna Perché se no io e te Siamo capaci di arrivare 5 Conoscendoci La tiriamo avanti Fia alle 5 Se vogliamo Quindi direi Mi addormento qua Di botto Dai salutiamo tutti Saluto la chat Vi ringrazio Per chi ha giocato con noi Purtroppo Non ce l'avete fatta Anche Greg Peccato Dai Se mai giochiamo Prossima volta Buonanotte ragazzi Addio Greg Ciao ragazzi Ci vediamo forse venerdì Vedremo Forse venerdì Addio stronzo E' solo band I tarocchi vogliono Buonanotte Buonanotte Buonanotte